Non mettetevi troppo comodi perché abbiamo solo 20 minuti a risultati acquisiti. Parleremo del caso delle Marche, quello del sindaco di Mantua e poi che cosa sta realmente succedendo in Casa 5 Stelle. Gli ospiti sono pronti, ne facciamo le domande. Sigla. Benvenuti, mentre fuori qui a Roma in furia alla bufera siamo riusciti a riunire i nostri ospiti in studio, anche con delle difficoltà diciamo, però diamo subito il nostro benvenuto a Francesco Acquaroli, neopresidente delle Marche, benvenuto. Buonasera, buonasera. Mattia Palazzi, neosindaco di Mantua, benvenuto anche a lei. Buonasera. In studio con me Sergio Gatti, direttore generale di Federcasse e Carlo Pucca, giornalista, scrittore, autore. Allora, partiamo dal risultato delle urne che ha fatto scattare una specie di resa dei conti in Casa 5 Stelle, un movimento che ancora alla ricerca del suo leader, Fico, parla di una crisi d'identità e dice no a una guerra tra bande. Ma è Di Battista a entrare nel dibattito a gamba tesa. Questa è la sconfitta più grande del Movimento 5 Stelle. Di Battista, poi ne parliamo. Un eccesso di esultanza penso che sia fuorviante e non sia giusto e per questo veniamo ai risultati del Movimento 5 Stelle. Io credo sia stata la più grande sconfitta della storia del Movimento 5 Stelle. Consideratevi, do qualche dato, che in Campania passiamo dal 17% al 10% e in Campania due anni fa il Movimento sfiorò il 50% alle elezioni politiche. In Campania abbiamo eletto decine di parlamentari, è Campano il Ministro degli Esteri, è Campano il Presidente della Camera, è Campano il Ministro dell'Ambiente, è Campano il Ministro dello Sport. Abbiamo preso il 10%. In Puglia, dove oltretutto avevamo due candidati facilmente colpibili sulla questione del voto clientelare e dove abbiamo adottato una linea diversa, siamo passati dal 17% al 10%. In Liguria siamo andati in coalizione con il PD e il Movimento passa dal 22,3% al 7,8%. Nelle Marche al contrario andiamo da soli e passiamo dal 19% al 7%. In Veneto c'è un enorme debacle, nei prossimi 5 anni il Movimento non potrà neanche fare opposizione all'interno del Consiglio regionale perché non abbiamo consiglieri. Carlo, la tocca piano di Battista, acquisita la vittoria, diciamo, identitaria sul referendum. Questa sconfitta, messa un po' da tutti, insomma, sulle regionali, addensa delle nubi sul futuro del Movimento. Poi, come abbiamo sentito, c'è un attacco diretto di Di Battista nei confronti di quelli che sono i vertici della politica Campani. Dice una regione che passa dal 17% al 10%. Che cosa sta succedendo? Beh, sta succedendo che la crisi d'identità, come dice Di Battista, c'è ed è evidente, ma c'è per una ragione semplicissima. I due grandi capisaldi dei 5 Stelle sono stati taglio dei parlamentari e rito di cittadinanza. Entrambi sono arrivati, bisogna inventarsi qualcos'altro perché poi la politica è un mercato sul quale tu butti delle idee. E quelle idee si sono esaurite, non c'è altro. In più c'è pure il discorso sul ritorno all'origine, che mi sembra incarnare Di Battista. È singolare perché nel frattempo sono accadute delle cose. Intanto è subentrata la realtà, la realtà di dover governare e quindi dover mediare, dover fare quello che tutti i partiti hanno sempre dovuto fare nella loro storia democratica. Secondo, i 5 Stelle hanno scoperto l'ambizione personale, che non era prevista al momento della fondazione. Io poi sono a favore dell'ambizione, capiamoci, cioè l'ambizione muove il mondo. Però l'E1 vale 1, no? Valeva ormai, è chiaro che non c'è più, è stato abbandonato questo claim in maniera clamorosa nel corso del tempo. E questa ambizione sta portando naturalmente le persone a dividersi, ma anche ad allearsi in maniera improvvisa. Conte e Di Maio, che erano i due grandi nemici al governo, ieri hanno detto la stessa cosa. Alleanza strutturale con il Partito Democratico, cosa che era inimmaginabile fino a pochi giorni fa. E tutto questo, naturalmente, quando devi schierarti, provoca poi desommovimento. Allora, anche Salvini ha ammesso che ci sono stati degli errori in Campania e in Puglia sulla scelta dei candidati, e dice che servono candidati da imprese e professioni. Noi però, due vincitori li abbiamo, partiamo dalle Marche. Presidente Acquaroli, qual è stata invece, secondo lei, la chiave vincente che le ha consegnato la Regione? Lei ha detto che i cittadini hanno giudicato 25 anni di centrosinistra. Però qual è la sua, invece, di carta che ha giocato? Beh, innanzitutto, buonasera a tutti. Noi abbiamo giocato la carta del dialogo con i territori, abbiamo cercato di ristabilire un rapporto con le associazioni di categoria, con gli ordini professionali, con tutti coloro che nei territori, gli enti locali, rimarcavano una distanza delle istituzioni, un'incapacità di scoprire una visione, di vivere una visione comune, e soprattutto abbiamo cercato di affrontare le questioni nevragiche per la nostra Regione, a partire dalla ricostruzione post-sisma del 2016, al ritardo infrastrutturale che costa diversi punti di PIL alla nostra economia, all'incapacità della sanità di rispondere alle logiche alla medicina del territorio, a cercare di servire, arrivare a servire tutte quelle comunità, anche nel nostro entroterra, che si stanno spopolando proprio per la carenza e la scarsità dei servizi. E poi il dramma occupazionale, il lavoro, la nostra era una Regione che fino a qualche anno fa era presa a un modello di riferimento collegata alle grandi Regioni del Nord per la sua capacità artigianale, manifatturiera, imprenditoriale, di dare anche sviluppo occupazione, e invece purtroppo questo sistema sta attraversando un momento di crisi e noi abbiamo cercato semplicemente di affrontare questi problemi andando al dunque, cercando di proporre per ognuno di essi delle soluzioni, ma soprattutto cercando di far capire che le istituzioni devono dialogare e assolutamente cercare di innescare un meccanismo di confronto profigo. Questo è chiaro, questo è nelle Marche, però andiamo a Mantua a vedere, invece, con oltre il 70% dei voti ha stravinto il sindaco Mattia Palazzi, qual è stata invece la sua di carta vincente? Buonasera a tutti, ma non c'è una carta vincente, c'è la credibilità di un lavoro che abbiamo fatto in questi cinque anni, non ideologico, molto pragmatico, di grande anche entusiasmo nel risolvere i problemi della città, lavorando dalla mattina alla sera in tutti i quartieri e ragionando e risolvendo dai piccoli problemi, i marciapiedi, che da tempo non venivano rifatti in molte zone della città, ai grandi progetti internazionali per una città come Mantua, che è una città di una bellezza direi quasi unica al mondo, ma che aveva bisogno di ritrovare anche un suo orgoglio, una sua ambizione nazionale e internazionale. Quindi un grande lavoro, una squadra molto unita e rinnovata, tanti giovani e un ascolto costante. Qui la Lega è passata dal 29% delle europee al 9% delle comunali, per capirci buona parte degli elettori del centro-destra, ha votato me, oltre ai elettori del centro-sinistra, se no non si capirebbe il 70%. Certo. Allora, tra i temi su cui lavorare nei prossimi mesi c'è ovviamente la gestione di queste risorse europee che arriveranno con il recovery fund. Allora, direttori e gatti, regioni e comuni chiedono a questo punto di poter accedere anche loro ai fondi europei. Come immagina che saranno erogati e poi riusciremo secondo lei ad evitare in questo caso delle lungaggini, la burocrazia che rischia poi di incastrare questo meccanismo di erogazione di fondi, di cui invece abbiamo fondamentalmente bisogno e bisogno presto. È una sfida nella sfida, la sfida dei territori è il titolo di questo approfondimento e la sfida di essere eletti governatori e sindaci in questi giorni è davvero un'occasione di servizio straordinario, direi storico. E fanno bene le amministrazioni locali ovviamente a chiedere di essere coprotagonista, perché senza il protagonismo dei territori, abbiamo ascoltato quali sono poi le ricette per poter vincere le elezioni, ma noi dobbiamo vincere poi i cinque anni successivi, cioè portare a termine veramente delle sfide che non abbiamo mai avuto in precedenza, senza il protagonismo dei territori, cioè chi vive, chi abita, chi amministra, chi studia, chi lavora, chi fa impresa, chi fa associazione, lo dice anche l'Ocse con un report del febbraio di quest'anno, il 65% degli obiettivi dello sviluppo sostenibile se non c'è il coinvolgimento convinto, entusiasta, come è stato detto, non si raggiunge. Ma secondo lei sarà facile, ci saranno delle pratiche più svelte per accedere a questo? Dunque non sarà facile proprio perché occorre rispettare almeno sette criteri che sono poi il paradigma con cui verranno valutati i progetti. Questi sette criteri prevedono anche proprio il settimo, forse il più importante, una straordinaria attenzione al metodo, cioè il metodo deve essere convincente come il contenuto, come il merito, il metodo deve portare, ovviamente chi giudicherà, che saranno le istituzioni europee, queste task force appositamente create, che dovranno essere convinte che non soltanto è buono il progetto, ma è buono il metodo, l'avanzamento, la pianificazione, quindi c'è una capacità realizzativa e organizzativa che forse chi amministra il territorio ha maturato o maturerà, che è indispensabile per il successo del paese. Allora, dobbiamo sentire il Presidente Acquaroli, perché lei saprebbe indicarne un progetto specifico per la sua regione, come impiegare questi soldi del Recovery Fund? Ma guardi, di progetti per la nostra regione ce ne sarebbero veramente tanti. Uno per tutti? All'alta velocità, ma guardi, è impossibile, guardi, è impossibile dirne uno perché il ritardo infrastrutturale della nostra regione è talmente ampio che va dalle trasversali, fanno grosseto alla salaria, all'alta velocità, all'uscita dal porto di Ancona, che è un'opera strategica a livello regionale ma anche extra regionale, parliamo di opere che sono necessariamente indispensabili per la nostra regione, ma per collegare la nostra regione alle altre regioni, siamo oggettivamente, ci darne una significherebbe fare torto ad altre che hanno le stesse priorità. Sindaco, c'era una? Parla con me, scusi. No, stavo chiedendo adesso perché forse stava entrando il Presidente Acquaroli nel dettaglio su un progetto specifico. L'ho perso. Bene, Sindaco, la passo da lei. Lei invece ha un progetto specifico per la città di Mantova? Ce l'avrebbe? Assolutamente sì, assolutamente sì, ne sto già parlando anche con il Governo. Noi abbiamo il secondo porto di navigazione d'acqua interna d'Italia, il porto di Valdaro, che già oggi lavora commercialmente ma ha bisogno di infrastrutturarsi. Il nostro progetto è quello di sviluppare un'idrovia maggiormente competitiva sul piano commerciale, ma anche sul piano turistico, unendo Mantova al Garda con un'idrovia turistica. Questo porterebbe almeno tre vantaggi. Innanzitutto è un porto d'acqua di navigazione d'acqua interna navigabile 365 giorni all'anno che arriva al Mediterraneo e quindi aiuterebbe a essere rafforzato a spostare traffico per capirci dalla gomma al ferro all'acqua, che è anche un obiettivo ambientale fondamentale. Noi siamo sull'autobrennero, quindi è uno snodo fondamentale. Il secondo luogo corrisponderebbe anche a un rafforzamento turistico, poiché come sapete sono più di 10 milioni turistiche ogni anno sul Garda e un'idrovia turistica Mantova-Peschiera rafforzerebbe fortemente una nuova via turistica. Quindi un progetto forte a punto di vista ambientale, commerciale, legato alla logistica, perché noi abbiamo molte aree della logistica, che è uno dei problemi in Italia, è proprio quello di sviluppare anche maggiormente la logistica e farlo dal punto di vista anche della sostenibilità. Certo, direttore Gatti. Concludo anche dicendo... Sì? Prego. Posso? Prego, prego. Concludo anche dicendo che è un bene che ci sia un metodo, è bene che ci sia severità sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ma le amministrazioni locali che hanno lavorato in questi anni, noi abbiamo portato 100 milioni di euro a Mantova per capirci 10 volte la spesa corrente che io ho nel bilancio, quindi sono come 10 bilanci in più, ottenendo e vincendo bandi in questi 5 anni, tutte risorse, spese investite e rende contate. Quindi è anche un modo per efficientare la spesa pubblica, le capacità della pubblica amministrazione. È chiaro che servono non solo un metodo che il governo deve dare, ma serve anche la possibilità che acconsentano di acquisire le risorse umane, cioè il personale, in grado di gestire i processi amministrativi di questo tipo. C'è un grosso problema anche il know-how di personale della pubblica amministrazione da rafforzare, se no le risorse non le metti a terra. Vorrei capire dal direttore Gatti se secondo lei questi progetti rientrano poi nei canoni previsti dal recovery fund. Così come sono stati rappresentati brevemente dal sindaco, dal governatore direi proprio di sì, perché sicuramente incontrano almeno due dei sette criteri, quello dell'effetto duraturo, sono delle infrastrutture, quello di creare occupazione, resilienza e capacità di sviluppo. Ovviamente anche gli altri possono essere valutati. Mi sembra molto importante l'accento sulle professionalità. C'è necessità, secondo me, di fare un erasmus della pubblica amministrazione, cioè uno scambio di esperienze, di buone pratiche, perché ci sono delle cose su cui il nostro paese eccelle. Abbiamo l'esperienza del punto, esatto, e quindi lo scambio di metodologie per realizzare, per mettere a terra progetti e soprattutto governarli nel medio termine per poi poterli concludere, direi che potrebbe essere uno di quei salti culturali che accompagnano la cattura delle risorse e la buona spesa delle risorse. Un'occasione imperdibile questa, cioè non possiamo sbagliare qui. Sì, sì, però mi insinuo... Posso dirla con una battuta? Sì, prego. Aspetta un attimo. Prego. Una battuta che però credo renda l'idea. La visione senza la capacità di gestione diventa allucinazione. Sì. Quindi abbiamo una grande opportunità, una grandissima opportunità, ma c'è bisogno di rafforzare e strutturare la capacità gestionale della pubblica amministrazione. Però c'è un grande vantaggio che i comuni, innanzitutto, non parlo delle regioni, perché alcune regioni sì, altre meno, potrei fare descritti esempi, ma non c'è alcun dubbio che i comuni sono in grado di mettere a terra quei progetti e quelle risorse e di fare in modo che diventino opere concrete. E noi abbiamo bisogno di farlo perché i tempi nei quali le cose si realizzano determinano o meno la crescita economica e quindi anche occupazionale oppure l'ennesima occasione persa del nostro paese. Governatore Acquaroli, un'occasione che non si può assolutamente perdere questa, eh? Ma no, assolutamente. È un'occasione importante proprio per recuperare quel gap infrastrutturale che incide sull'economia, sulla capacità di sviluppo, sulla capacità di creazione dei posti di lavoro, ma soprattutto per un territorio come il nostro, che è stato duramente colpito dal sisma nel 2016, è anche un'occasione importante di rinascita per restituire risposte che sono mancate per troppi anni. Per questo prima, poi non so che cosa è successo, non sono riuscito più a parlare, però per questo prima le dicevo che occorre una visione complessiva anche al di fuori delle regioni. Le opere pubbliche assumono un'importanza rilevante quando riescono a dare una prospettiva non solo al territorio regionale, ma al territorio regionale, compreso in una visione che sia complessiva a livello sicuramente nazionale. L'Italia soffre moltissimo una diversità tra la dorsale adriatica e la dorsale direnica, soffre una grande diversità tra il nord e il sud a livello di dotazione infrastrutturale. Le Marche è proprio esattamente al centro dell'Italia dove la dorsale adriatica non è sviluppata e dove inizia la carenza per essere collegati. Ne risente il turismo, ne risente il mondo dell'artigianato, del commercio, dell'industria. Abbiamo necessità che lo Stato e l'Europa sappiano raccogliere il nostro grido, il nostro allarme perché si rischia di compromettere decine, centinaia, migliaia di posti di lavoro che in carenza di strutture, infrastrutture necessarie, indispensabili per poter competere non riescono più a tenere il passo. In uno Stato, in un complesso dove di fatto la questione fiscale è assolutamente rilevante, il costo del lavoro è assolutamente rilevante, la competitività bisogna ricercarla nella capacità di accedere alle risorse e soprattutto nella capacità di avere almeno i servizi necessari. È chiarissima. Carlo, è veramente una pioggia di soldi forse come non l'abbiamo mai visto nella storia. Sì, però io aggiungerei al tema del personale amministrativo quello del personale politico. Infatti questo sindaco e questo governatore sono due esempi. Due eccellenze. Sì, ma lo sono anche da un punto di vista di politica nazionale perché Palazzi potrebbe tranquillamente fare la carriera nazionale se non avesse un partito che è tutto romano, la famosa ditta che sta lì e che però alcuni anni fa aveva dato voce a questi sindaci. Erano la vera potenza di fuoco del centro-sinistra. Sono spariti completamente dal dibattito nazionale. Acquaroli è interessante perché è il primo caso di Fratelli d'Italia dove si allarga il partito a territorio davvero con uno di una nuova generazione. La famosa generazione Atreiu, quella cresciuta da Giorgia Meloni che è sempre stata vista un po' come troppo legata a Roma. Ecco, Acquaroli è la prima espressione davvero potente di questo allargamento di Fratelli d'Italia nel paese. Cioè di una classe dirigente nuova, giovane, che si sta allargando. Ecco, per entrambi mi auguro per il bene del paese portarvi una battuta di Grillo oggi all'attenzione. Perché ha detto che alle votazioni va a meno del 50% degli elettori e a una democrazia zoppicante. Si cominciano a prospettare scenari come l'estrazione a sorte. E poi dice perché no. Che ne pensi dell'estrazione a sorte prevista da Grillo? Vabbè dai. Proposta da Grillo. Dice no perché non si possono selezionare le persone con certe caratteristiche, non mi interessa chi sei, basta avere requisiti. D'altra parte dice se una persona sta in una giuria popolare può dare all'ergastola, allora può anche fare politica e occuparsi per un anno della sua città o della sua regione. Penso che sia uno dei grandi problemi del paese. Lo dicevo adesso, in questo momento. Abbiamo bisogno di personale politico all'altezza, contemporaneo, abbiamo bisogno di persone che sappiano gestire la cosa pubblica. Qui lui invece faceva un discorso di elettori però. Infatti questa idea non credo che sia mai chiave. Appunto, se tu l'elettore è a sorte, è tutta una fortuna. Esatto, io non credo che questa idea possa piacere ai nostri due ospiti che hanno avuto un consenso così ampio. Solo una battuta, Presidente, che ne pensa? Beh, io penso che la democrazia è una cosa molto seria. Sindaco, lei che ne pensa di questa idea di Grillo? Sull'estrazione a sorte? Sì. No, sull'estrazione a sorte. No, quella va bene, la tombola. Va bene. Cosa importante per la socialità degli anziani. Direi che dirò. Dopodiché mi consenta di dire che il tema di una politica romano-centrica è un tema trasversale ai partiti. È un tema che in parte c'è, in parte condivido. Io poi personalmente sento fortemente la necessità che il mio partito, il PD, sia in grado maggiormente di interpretare il nord del paese, di riprendere in maniera più forte anche alcune proposte dell'agenda di governo che guardino al nord del paese. Quindi piccola e media impresa, artigiani, far ripartire l'edilizia, i piccoli cantieri delle città. Ripeto, noi abbiamo la necessità qui di muovere l'economia e lo possiamo fare. Assolutamente. Io credo, lo dico a prescindere dal colore politico dei governi, qualsiasi governo, se prende dieci sindaci, li prende anche di colore politico diverso. Abbiamo praticamente quasi finito il tempo. E dice, dateci cinque cose da fare, vediamo i soldi, funziona meglio. Ne riparleremo, sindaco. Intanto complimenti a lei, complimenti al Presidente. Vi ricordo che dal 25 al 27 di settembre ci sarà il Festival dell'economia civile a Firenze. Se vediamo la locandina, c'è bisogno in questo momento di parlare di economia e di confrontarsi sui temi economici. Lei ci sarà, direttore? Ci sarò, senz'altro. Perfetto. Allora, prima di chiudere, invece, voglio farvi vedere una foto, perché è Giancarlo Siani, giornalista, 35 anni fa l'omicidio del cronista del mattino ucciso dalla Camorra. E l'Ordine Nazionale e l'Ordine Regionale dei giornalisti gli hanno consegnato il tesserino a bordo, quello dei giornalisti professionisti, alla famiglia di Giancarlo. Lui era un pubblicista, adesso sarai iscritto a tutti e due gli albi professionali. Da Napoletano mi fai commuovere così, eh? Eh, lo so, però noi dobbiamo assolutamente dare il benvenuto a Giancarlo in questa, diciamo, famiglia, ricordarlo per il suo impegno, il suo coraggio e la sua professionalità, perché deve essere un faro per tutti. Grazie a tutti i nostri ospiti, noi ci vediamo domani dopo il telegiornale. A domani. A domani. A domani.